Milano Centrale Milano Centrale Il treno Euronight 372, Salvador David, delle ore 19 e 40 per Barcellona e in partenza dal binario 7. Ferma a Novara, Torino Porta Suga, Barnecchia, Pertina, Figueras, Gerona. Il treno regionale 20, 2, 6 delle ore 19 e 15 per Torino Porta Nuova e in partenza dal binario 6 con 30 minuti di ritardo. Ferma a Roffiera Milano, Magenta, Novara, Percelli, Santia, Chivasso, Torino Porta Suga Sotterranea. Milano Centrale Stazione di Milano Centrale Il treno Euronight 372, Salvador David, delle ore 19 e 40 per Barcellona e in partenza dal binario 7. Ferma a Novara, Torino Porta Suga, Barnecchia, Pertina, Figueras, Gerona. Il treno regionale 20, 2, 6 delle ore 19 e 15 per Torino Porta Nuova e in partenza dal binario 6 con 30 minuti di ritardo. Ferma. ừ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti